Dei mondiali c'è la britannica Elizabeth Twiddle, una Twiddle in grande condizione, protagonista proprio alle parallele asimmetriche dove ha vinto con 16-20 precedendo la statunitense Liukin specialista e poi battendo Vanessa Ferrari. Sì, ha sicuramente un esercizio di grandissimo valore e molto vario nella scelta degli elementi, qui abbiamo visto una piantata Ekaciov, un bellissimo movimento e quindi eseguito anche con una grande ampiezza. Grazie a tutti.